Allora, siamo partiti da un campione di 350.000 persone contattate tramite social, perché ormai bisogna tenere conto di questo. Non volevamo le eccellenze italiane, non volevamo i consolati, le ambasciate e gli studi italiani di cultura, volevamo totale calasualità. Vi espongo brevemente i dati, avrei appunto gradito le testimonianze dei ragazzi, perché sono impressionanti quello che dicono. I dati sono, 300.000 giovani lasciano l'Italia ogni anno, uno ogni cinque minuti, è come se sperisse ogni anno una città come Catania o Bari. Venezia ha di meno abitanti, negli ultimi 12 anni sono partiti due milioni di italiani, quasi una famiglia su tre ha un figlio all'estero o che pensa di andarci. Un giovane su due, secondo la fondazione Migrantes che si occupa di questo tema finanziata dalla CEI, vorrebbe andarsene. L'Italia vorrebbe essere lasciata da quasi un terzo dei residenti. Allora, bisogna sentirli questi ragazzi cosa dicono, perché loro sostanzialmente se ne sono andati perché in Italia non hanno trovato nulla. E parliamo di tutti i mestieri possibili, non soltanto i cervelli in fuga, le scienziate, i ricercatori universitari, ma i pizzaioli, i camerieri, i baristi, le babysitter. Ora tutto questo è abbastanza inconcepibile, o perlomeno li hanno tentati i lavori, hanno trovato degli stage sottopagati, 600 euro al mese, quando diceva bene, per sei mesi. Poi cosa dicono? Che nessuno di loro vuole tornare in Italia. Questo è drammatico, perché nessuno di loro più riconosce la propria terra come la propria identità, il proprio luogo. Stanno bene all'estero, però amano molto ancora l'Italia e paradossalmente all'estero hanno ritrovato l'orgoglio di essere italiani, ma perché? Perché la vedono come turisti, non ci vivono in Italia, non sono alle prese con i suoi problemi quotidiani, all'estero va meglio. Allora, questi sono i dati. Vi sembra normale che di questo esodo giovanile non si parli? Non è la pagina di apertura di nessun giornale, è un silenzio totale. Ogni tanto sì qualche articolo, qualche servizio televisivo. Noi abbiamo fatto un'inchiesta con la Fondazione Cresci per la storia dell'immigrazione italiana, ma francamente credo che la sia più ampia possibile, raccolta video fatta finora. Dobbiamo interrogarci sul perché di questo silenzio riguardante l'esodo giovanile che è iniziato in tono minore una decina d'anni fa, quando a partire erano circa 40.000 italiani e ora è diventata un'emorragia. Perché non se ne parla? Perché non ci si interroga su perché i nostri giovani se ne vanno? Perché non fa comodo a nessuno parlarne? Perché la sconfitta del sistema Italia emette sotto accusa tutte le politiche economiche fatte finora. Tutti i politici presenti, passati e futuri, se non trovano una soluzione o non mettono al primo posto nella loro agenda la perdita dei nostri giovani, che significa perdere il nostro futuro. Perdere tutti questi italiani è perdere una fetta importante di sovranità, di legami con la propria terra, è perdere il futuro e impoverire il paese. Io non vedo molta differenza con la fuga degli africani, ormai ampiamente condannata, ve lo devo dire, dalle menti più lungimiranti dell'Africa, eppure dei vescovi africani, e quella della nostra gioventù. Parliamo sempre di migranti economici in cerca di migliori opportunità. L'Italia, secondo questi giovani, è immobile, provinciale, pessimista, chiusa, loro sono internazionalizzati. E anche questo è una sconfitta, no? Che l'Italia si è considerata così da questi giovani. Sconfitta che poi ci costa un sacco di soldi. 14 milioni l'anno, lo dice Confindustria, 14 miliardi l'anno, scusate, lo dice Confindustria, di perdita di capitale umano, un punto di PIL. Ragazzi formati nelle nostre scuole e università che se ne vanno all'estero. Masochismo, suicidio puro italiano. C'è una sola parola per tutto questo? Vergogna. Vergogna perché nessuno si è preso la responsabilità di questo esodo giovanile e dei politici passati. Enzo Pennetta ha coniato un termine molto originale, dove sta Enzo? Ecco, per questo fenomeno, emigrasmus. È divertente, è divertente. Allora, io vorrei sapere da voi, se avete figli all'estero, parenti, li conoscete, immagino, cosa hanno fatto gli italiani, gli politici italiani, gli economisti italiani, per trattenere in Italia questi giovani? Nulla, anzi, anzi, anzi. È stato visto come un fenomeno positivo in nome della mobilità, globalizzazione e conoscenza. Allora, a partire è sempre bello, no? Conoscere altre culture, altre realtà, è stupendo. Chi non è stato all'estero, chi non ha viaggiato, inevitabilmente coltiva solo il proprio orticello. Quindi il confronto è fondamentale. Io non dico che non bisogna viaggiare, dico che non bisogna viaggiare per obbligo. Ma andare all'estero deve essere una scelta e non perché in Italia non trovi nulla. Cosa hanno fatto i nostri politici? Le leggi sul controesodo. Allora, incentivare i giovani a tornare in Italia per un periodo garantendo meno tasse per tre anni. Allora, è una proposta PD. Adesso non è ancora varata, ma insomma di alzare questa parziale di fiscalizzazione a cinque anni. Totale fallimento. Perché i giovani non vogliono meno tasse, vogliono un lavoro sicuro e pagato, decentemente. Su 10.000 rientrati ne sono ripartiti 8.000. Cosa torniamo a fare, dico in Italia, se l'alternativa è uno stage di sei mesi? Stiamo dove stiamo? In Irlanda, in Australia, dove vi pare? Sono dovunque gli italiani. Di due giorni fa, la notizia del fallimento totale di questa legge varata nel 2010, che permetteva agli scienziati italiani di tornare pagando l'IRPEF solo sul 10% del proprio stipendio in Italia. E sapete perché è fallita? Perché nel 2017 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che questo valeva solo per gli iscritti all'AIRE, l'anagrafe italiani residenti all'estero. Quindi chi non era iscritto all'AIRE e magari era andato per sei mesi, un anno per un tirocinio o un docenso universitario ed è rientrato, chiamato università italiane, ora è considerato evasore totale e deve restituire allo Stato qualcosa come 100.000 euro, anche 50, dipende. Diciamo che questi giovani sono comunque fottuti. Ora, Ida Magli, nei suoi tanti libri, quelli che l'hanno eretica, al mondo, lei lo chiamava corretto dalla politica, parla dell'Italia come di un paese dove è nato un laboratorio per la distruzione, con la complicità del potere economico e politico. Cosa prevede questo laboratorio per la distruzione? Ovviamente disgregazione di ogni valore fondante, di ogni identità povertà diffusa e incanalare, attenzione, la rabbia in una finta partecipazione democratica come quella sul web. Solo che il web, l'hanno ben fatto notare Guido Grossi ed Enzo Pennetta in passato, il giochino gli ha sfuggito di mano e non a caso si fanno leggi europee per limitarne la libertà di espressione. Io vado spesso ormai a convegni sull'immigrazione e mi diverto un mondo, per modo di dire, alla Camera o al Senato. È tutto un fiorire di entusiasmi per questa nuova mobilità, perché i giovani si sprovincializzano, no? Ora, ribadisco che non occorre trapiantarsi con bagagli e famiglia in un nuovo paese per sprovincializzarsi. Forse basta partire e viaggiare per piacere e non per dovere. Però, perché è tutto un fiorire di entusiasmo, perché c'è un mondo che vive di questo. Una marea di sigle, enti, associazioni, comitati, organizzazioni, in genere dotate di finanziamenti pubblici, governativi, statali, o di ingenti finanziamenti privati, i valdesi, la CEI, non vi sto a dire altro, le fondazioni degli agnelli, che ci campano. E quindi c'è un mondo dietro a questa mobilità italiana. Essere vertici di queste sigle è un ottimo trampolino di lancio per carriere politiche, per farsi conoscere, che poi facciano pure del bene, assolutamente, non si può fare di un erbe a un fascio, ma sugli italiani all'estero si giocano partite decisive. Prima si crea il bisogno, poi l'indotto economico. Mutatis e mutandis, il discorso è lo stesso dell'immigrazione, quella africana dal sud, un business fiorente che dà lavoro e tanti soldi. Quindi, dietro allo spostamento dei popoli, signori, c'è sempre un grande mercato. Naturalmente i popoli si sono sempre spostati, ma per motivi economici. Lo sappiamo benissimo, no? Cioè, i barbari venivano al sud per cercare terre più fertile e migliori. Dopodiché schiacciavano gli altri popoli, si facevano la guerra. Qua non si è fatta una guerra, però forse l'ha detta bene, mi sembra Guido o Enzo Pennetta, e tutti quei intervisti finora, c'è stata un'altra guerra, non la seconda guerra mondiale che comportò un'enorme immigrazione italiana perché c'era un paese distrutto, ma la guerra, appunto, economica. E questo è il problema di cui non si è mai resi conto. Allora, vi volevo anche dire, questa mobilità è assolutamente a senso unico. Partono gli italiani e non arrivano da noi tedeschi, francesi, inglesi, americani, vengono a studiare magari, perché comunque abbiamo delle buone scuole e delle buone università. Ma poi se ne torna nel loro paese, nessun giovane di questi paesi viene da noi a cercare lavoro come lavapiatti o come pelatore di patate, come fanno gli italiani all'estero, a meno che non sia un trasferimento in un multinazionale, no? Allora, mentre noi lo facciamo, andiamo a fare i lavapiatti e i camerieri e perché preferiamo farli in Inghilterra? Perché in Inghilterra non è bloccato l'ascensore sociale, come da noi. Da noi rimani i lavapiatti a vita. Lì da lavapiatti diventi magari manager del ristorante in pochissimo tempo. Questo è quello che mi hanno detto i miei giovani intervistati. Un altro dato, poi finisco presto perché avrei tanto cose da dire ma non voglio tediarvi. Allora, l'italiano è diventata la quarta lingua più parlata al mondo. È un dato ultimissimo questo, dopo francese, inglese e cinese. Perché sono 65 milioni gli oriuni italiani nel mondo e i nipoti e i pronipoti vogliono studiare la lingua degli avi. Questo vuol dire che c'è una gran voglia all'estero d'Italia. Gli unici che non hanno voglia d'Italia siamo noi italiani che qui viviamo. Allora, tutto questo comincia a non andare bene perché è successo in Italia qualcosa. È successo due cose contemporaneamente. Negli ultimi, diciamo, vent'anni una campagna estrema, spaventosa contro il posto fisso, considerato noioso, non moderno, ricorderete quel sottosegretario del governo Monti mi sembra, Martone, chi era, il quale disse è noioso il posto fisso, beato te per te è noioso. Quindi una campagna contro il posto fisso e promobilità e flessibilità giovanile, distruggere l'esistente, impoverire l'Italia, privarla del futuro. E ora, ora, dopo aver distrutto il lavoro, si sta passando la distruzione della famiglia. E questo è importante l'immigrazione giovanile anche in questo, perché abbiamo, vabbè, già i due padri, i due madri, i sessi indefiniti, i genitori uno, i genitori due, qui il capolavoro. Dio, padre e famiglia, sapete benissimo che non si possono più dire, la distruzione della famiglia passa anche attraverso l'allontanamento forzato dei nostri giovani. Si perdono in Italia, questa è una cosa in cui io credo moltissimo. I legami e gli obblighi intergenerazionali che hanno sempre sorretto l'Italia per arrivare a quella tanto decantata mentalità del nord Europa e anglosassona che vede gli anziani tutti confinati a 70-75 anni in case di riposo. Deve rimanere quella fetta di popolazione che produce. Nessuno, e perché ci parlo ve lo dico, ha la consapevolezza di questo che accadrà prestissimo. Ora abbiamo legioni di genitori relativamente giovani, 50-60 anni, i quali sono felici dei successi dei loro figli all'estero. Li raggiungono prendo gli treni, gli aerei, conoscono il mondo grazie a questi figli. Io voglio ridere o piangere quando questi giovani verranno 70-75-80 anni saranno vecchi, malati e qualcuno li dovrà pure accudire, no? I figli saranno lontani, i nipoti saranno lontani. È pazzesco se ci pensiamo col figlio in Australia. Voi mi direte i figli non si fanno per essere il bastone della vecchiaia, devono farsi la loro strada? Certamente, ma chi l'ha deciso che i figli non devono sostenere i genitori interd'età? Dov'è questa legge? Adesso, esattamente come i genitori hanno sostenuto noi da piccoli, perché vogliamo trasformarci tutti in un popolo di egoisti senza doveri, nemmeno quelli familiari? Io non lo capisco. Poi, ripeto, stiamo sbagliando. Grazie. No, perché ve lo devo dire proprio, cioè, tutte queste mamme, papà, ah, mio figlio sta in Olanda, mio figlio sta lì, guardate, io non ne conosco uno che non stia all'estero, no? Benissimo, stai in Olanda, perché hai 55 anni, perché io ne ho 62, chiaramente adesso non avrei il problema di un figlio lontano, poi non ho figli, però so benissimo che invecchierò da sola. Allora, e questi genitori, col ciuffolo, che avranno l'assistenza che noi abbiamo prestato loro, io ho curito mia madre fino ai 95 anni, lavorando, facendomi un mazzo tanto, ed è almeno una cosa sono contenta, non avrò rimpianti, non è che ho rinunciato a nulla, non ho rinunciato al lavoro, semplicemente facevo l'equilibrista, come hanno sempre fatto le donne. Poi, stiamo sbagliando tutto, non ci rendiamo conto, quindi, di questa cosa essenziale, che si deve, a mio avviso, ritrovare un po' di orgoglio. Mi ha molto colpito la relazione iniziale, mi sembra, di Fabio, forse anche l'altra meravigliosa di Valerio, ragazzi, due razioni meravigliose, al cui confronti io mi sembro un nano e loro i giganti. Allora, noi, ormai, il ritornello è, l'Italia fa schifo. Pensiamo che questa narrazione ci sia stata imposta. Guai a sentirsi ottimisti, positivi, a sentirsi parte di un paese del comune, no? Guai a chi rivendica con fierezza l'orgoglio di essere italiano, si viene subito accusati di nazionalismo, di distrettezza mentale, ma come se provinciale, se italiano? Oh, sovranità popolare, eh? Giusto, giustissimo, cominciamo ad apprezzarci e a lottare in Italia per cambiare, per scalzare questa mentalità che ci vuole tutte esuli. Insomma, non è veramente possibile. dati INAIL, vi dico che il lavoro in Italia non manca, è la ragione Fabio, che mi sembra che l'abbia detto, ci sono i dati INAIL dell'altro giorno, mancano 4 milioni di posti di lavoro nella sanità, nell'istruzione, nella difesa e nella pubblica amministrazione. Dovunque ti rivolgi nel pubblico, vai alla ASLE, vai alla NAGRAF, ti dicono che non hanno personale, che non ce la fanno negli ospedali, no? Poi c'è le imprese, le imprese private che si dichiarano tutte overbooking, perché devono fare profitti con la minore spesa possibile quando cacciatori di teste stranieri vengono in Italia a selezionare personale da portare altrove. La notizia dell'altro giorno, una società tedesca, la Competset, a Torre del Greco, Napoli, ha avviato selezioni per educatori di asili e scuole perché, ha detto, in Italia si trovano giovani preparati e con buone doti caratteriali. Non c'è qualcosa di strano in tutto questo? Noi li rifiutiamo e gli altri li cercano. Io ho raccolto tantissime storie girando questo documentario, arriva la conclusione. A Madrid un ragazzo mi ha detto sto in Spagna perché l'Italia è una repubblica che tratta i suoi cittadini come sudditi. La Spagna è una monarchia che li tratta come cittadini. Sul tema sudditi, traditi dai governanti, Ida Magli, l'antropologa, ha scritto fiumi di parole. Vi leggo una sua frase perché è bellissima. Essere odiati, disprezzati, traditi dai nostri governanti è sempre stato il nostro terribile destino. Gli italiani sono sempre stati per i loro governanti esclusivamente l'oggetto, il corpo disprezzatissimo su cui poggiare i piedi, lo strumento per raggiungere ed esercitare il potere. Nient'altro, dopo l'Occidente, libro di una dieci anni fa. Allora, lei ha ben individuato il percorso di distruzione dell'identità nazionale e assolutamente Ida Magli, i trattati europei avrebbero voluto stracciarli prima ancora che fossero concepiti. Ora, più entro nel fenomeno migrazioni, più mi rendo conto, scusate, che nella narrazione vigente è una truffa, che è una diaspora, frutto, quantomeno, per essere buoni di una strategia mia o per essere cattivi, di una strategia che mira, come ho già detto e lo chiudo e ripeto, a umiliare l'Italia, depoperarla, minarla le radici, sgretorare le famiglie e dividerle. Strategia pericolosissima perché anche così si cede una fetta di sovranità e invece utilissima a chi vuole rendere l'Italia una colonia e se proprio vogliamo essere ancora più cattivi sostituire la popolazione italiana con altre etnie. Divide et impera. Il famoso motto vale sempre, sempre. L'esterofilia è bellissima ma non si ha servimento totale e i nostri giovani ormai sono impregnati di esterofilia perché dicono tutti l'Italia fa schifo. Forse dovremmo ricominciare a fargli amare questa Italia non solo dall'estero come turisti ma facendoli vedere che in Italia qualcosa si può fare. Poi naturalmente ci sono quelli che vanno all'estero e non è che la svancano bene. Ci sono i 126 senza tetto italiani a Londra alcuni vorrebbero tornare ma come vedete è molto difficile perché le leggi sono fatte apposta per creare gli problemi e perché in Italia questo benedetto lavoro non c'è. Quando ci sarebbe? io credo di aver finito Amici. grazie. 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 grazie a tutti. grazie a tutti.